Estrai l'arma! Avanti! Mi rifiuto. Fallo! Questo è un duello! Ho detto no. Tutto questo è ridicolo! Non hai tutti i torti. È davvero ridicolo. Eh? Uno scontro dovrebbe essere molto più spettacolare! Dopotutto non sono stato io quello voler duellare. Mio caro tipo... Ma questo è matto! Brutto codardo! Oggi hai sfiorato fin troppe volte la morte, novellina. Ascolta, noi siamo soltanto giornalisti. Non siamo né poliziotti né bodyguard. Però... Inoltre sappi che la parola codardo può essere utilizzata solo da chi se lo merita. Vedi di tenerlo a mente. Ti è chiaro? Sì. Rifugiatemi tutti in un edificio! Quello là... Vuole salvare tutti quanti! Fare gli spavaldi in questo momento è da idioti. Voi due siete simili. Anche lui ha un'irrefrenabile voglia di morire. Cosa? 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 Ti prego no! Non dirmi! Ho finito tutti i proiettili! Ma sei serio? Che coglione! Proiettili! Qualcuno ha dei proiettili! Ho bisogno di un calibro 22! Mi prego! Mi prego! Ma perché nessuno lo aiuta? Mi prego! Un calibro 22! Tieni al volo! Questo è da parte di Rosa! Dai! Il mio proiettile! Ah! 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 Eso! Ha solo un colpo! Non è un po' poco? Grazie mille! Non te lo permetterò! Non rompermi le palle! Ah! 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 Grazie a tutti.